Gli umani sappiamo come sono. Oggi la paura di ammalarsi e morire e l'isolamento delle proprie case li ha costretti finalmente a pensare al senso della propria vita, alle scelte che hanno fatto finora, a quello che vorranno fare nel futuro. I più avveduti hanno perfino sentito la responsabilità di essere individui ma in connessione con l'immensa collettività mondiale che sta affrontando morti e contagi a non finire, che non ha più né lavoro né reddito, che non ha soldi per mangiare e chissà tutto questo per quanto tempo ancora. Mi viene quasi da sorridere pensando a queste cose che per gli umani sono straordinarie mentre per noi piante la vita quotidiana, da che mondo è mondo, affrontare le turbulenze ambientali, riuscire a sopravvivere, aiutarci a vicenda perché nessuna pianta può farcela da sola. Ci sono stati momenti, è vero, molto drammatici a cui abbiamo assistito impotenti, Hiroshima e Nagasaki, l'attentato alle torri gemelle, lo tsunami. Però oggi, con tutto il rispetto per le vittime di questa pandemia e il riconoscimento di quante persone tra gli umani dimostrino una generosità e una vera e propria abnegazione per il bene comune, credo proprio che con il senso di responsabilità per le sorti della collettività a cui tutti sono chiamati, anziani, adulti, giovani, bambini, la battaglia al virus possa essere davvero vinta. E forse questa circostanza in qualche modo aprirà lo sguardo di questi miserevoli esseri nella speranza che abbiano capito davvero la lezione e che quando la pandemia sarà finita non riprenderanno i vecchi stili di vita e permarrà in loro il senso di responsabilità nel realizzare una vera e propria rigenerazione ecologica della società. Cosa posso suggerire loro in base alla mia esperienza di vita millenaria? Beh, costruire percorsi di crescita culturale per la popolazione, per i giovani, per gli amministratori, sui rischi dell'antropocene, sull'importanza di vivere in un parco, sulla necessità e bellezza di operare tutti insieme con gradualità, creatività, cooperazione, proprio come facciamo noi piante che lavoriamo costantemente per alimentare le radici, valorizzare la memoria, aiutarci a vicenda e non perdere la speranza che mai delude. Il tutto senza certezze autoreferenziali ma con l'umiltà socratica e una capacità visionaria. E questo video che segue l'asino e l'artista, l'asino come simbolo dell'umiltà e l'artista come portatore di un potente volano di crescita ecologica è il messaggio augurale agli umani di noi piante vetuste. Grazie a tutti! Grazie a tutti!